È sempre un bel momento quando possiamo presentare l'ingresso di un nostro vettore sul mercato di Napoli. Oggi appunto presentiamo Royal Air Maroc che ci collegherà a Casablanca con tre voli a settimana, ma attraverso Casablanca e l'ampio network che loro hanno da Casablanca, non solo per il Marocco, ma per tutta l'area dell'Africa subsahariana, avremmo collegati per la prima volta ad un'area con la quale fino a questo momento eravamo, devo dire, poco collegati. Quindi effettivamente loro colmano una mancanza che abbiamo avuto fino a questo momento in termini di network. Tariffe veramente eccezionali che tra l'altro sono state prorogate fino a giugno, quindi effettivamente insomma una grande opportunità di raggiungere aree estremamente affascinanti perché naturalmente attraverso Casablanca si potrà anche andare a Marrakesh, a Gadir, a Fetz a prezzi veramente competitivi. Grazie a tutti.